Musica Buonasera e buona domenica dalla redazione del TGTN in apertura agli aggiornamenti sul coronavirus. Oggi in Calabria si registrano 444 nuovi contagi e 5 decessi. Sono 444 i nuovi contagi in Calabria su un totale di 2426 tamponi effettuati in un giorno. Le persone risultate positive al coronavirus complessivamente sono 13.896, quelle negative 321.630. Aumentano i decessi, 5 in più nelle ultime 24 ore registrati tutti nel Cosentino. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è 222. Il Regino e il Cosentino sono le aree dove si registrano più contagi. Nel dettaglio i casi confermati oggi sono così suddivisi. A Cosenza 136, Catanzaro 59, Crotone 67, Vibo Valencia 33, Reggio Calabria 149. Aumentano i ricoveri in reparto 433 degenti, mentre sono 47 i ricoveri in terapia intensiva. Il contagio a macchia di leopardo in molti centri della Calabria aumentano, come dicevamo, i ricoveri e gli ospedali sono in affanno. Il virus continua ad avanzare. Nella Sibaritide, visto l'aumento dei contagi chiusi al culto, due parrocchie, San Giuseppe in Siberi e San Raffaele Arcangelo di Lattughelle. Salgono 55 casi a Pizzo Calabro, ma nuovi contagi si registrano da nord a sud della Calabria. Resta il problema del tracciamento dei contatti e ritardi per processare i tamponi. Si cerca di correre ai ripari, come alla Mezzia Terme, dove saranno processati 400 tamponi al giorno, grazie ad un nuovo macchinario arrivato nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale Giovanni Paolo II. Intanto aumentano i ricoveri e gli ospedali sono in affanno. Nessun ospedale da campo sarà allestito all'Ocri. La decisione dopo un sopralluogo della protezione civile e il sindaco calabresi a spiegare che si è optato per la conversione di un padiglione del nostro ecomio cittadino. Situazione difficile all'annunziata di Cosenza. Contagi tra il personale sanitario e pazienti Covid al pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Al pugliese Ciaccio di Catanzaro allestita la medicina Covid. All'interno della medicina Covid c'è una potenzialità di 16-18 posti letto. a secondo delle esigenze che si potrebbero venire a verificare. Ora la medicina Covid ha sostanzialmente questa funzione, cioè quella di trattare i pazienti che sono affetti da pluripatologie, pazienti anziani. In questo caso la medicina Covid svolge un lavoro prettamente più specialistico rispetto agli altri. Il progetto qual è? Il progetto è che adesso sono stati attivati circa 6 posti letto e con il divenire del tempo, in base alle attrezzature che stiamo per ricevere, entreremo in brevissimo tempo ad essere a pieno regime, quindi a poter occupare tutte 16-18 posti letto. E questo sarà sicuramente una valvola di sfogo sia per le malattie infettive che verranno un pochettino decongestionate dall'affluenza di pazienti Covid, sia di supporto anche al pronto soccorso che avrà la possibilità di ricoverare nel reparto di medicina Covid pazienti in semi-intensiva. E all'ospedale di Cosenza continua il trattamento di plasmaterapia nella città dei Bruzzi, come in Reggio Calabria, il plasma dei pazienti guariti dal Covid-19, persone che hanno sviluppato gli anticorpi utilizzato proprio per curare i malati. Ne abbiamo parlato con il dottor Francesco Zinno. L'annunzata di Cosenza, anche per la seconda ondata del Covid, ha avviato il trattamento della plasmaterapia nel centro trasfusionale dell'ospedale. Riprende in maniera ancora più impegnativa, visti i numeri che sono molto più alti rispetto alla prima ondata. Quindi necessariamente ci troviamo di fronte alla necessità di dover ampliare il numero di unità conservate. Nella prima fase abbiamo reclutato circa una ventina di donatori che hanno dato luogo alla produzione di circa 40-45 unità di plasma. Aggiungo che già in alcune occasioni, seppur non numerose, visto che le indicazioni allo stato attuale sono nei pazienti particolarmente gravi, e già in alcune occasioni nella prima ondata e all'inizio della seconda ondata abbiamo avuto la necessità di ricorrere all'utilizzo del plasma iperimmune. Quindi i risultati, almeno per quello che ci riguarda, considerando tuttavia che ci troviamo di fronte a numeri bassi, come dicevamo, sono piuttosto promettenti. Ma per donare il plasma iperimmune, quali caratteristiche bisogna avere e quali risultati per i pazienti trattati con la terapia? Le caratteristiche che il donatore deve avere è di essere negativo da almeno tre settimane rispetto all'ultimo tampone effettuato. E questo è il primo aspetto. Successivamente bisogna rispondere agli stessi criteri dei donatori di sangue. E aggiungo che proprio per la donazione del plasma, anche per i donatori di sangue ordinari, bisogna entrare nel reggio dai 18 ai 65 anni. Le donne che abbiano avuto gravidanze non possono donare, perché potrebbero essere presenti degli anticorpi di altro tipo che potrebbero dare delle complicanze. Ma questa avviene anche per la donazione del plasma non covid, diciamo così, non iperimmune. Quindi questi sono i criteri. E chiaramente, ripeto, come abbiamo detto in precedenza, è necessario presentare nel sangue una certa quantità di anticorpi, cosiddetti immunizzanti. Altrimenti la terapia non avrebbe efficacia. Riguardo i pazienti trattati con il plasma iperimmune all'interno dell'azienda ospedale di Cosenza, diciamo che allo stato attuale abbiamo, e questa è un'innovazione, ma che dovrà poi andare a valutazione complessiva ed anche eventualmente a pubblicazione, assieme ai colleghi delle malattie infettive, abbiamo trattato una donna al sesto mese di gravidanza con una dispinea, con problemi respiratori, in ossigeno e terapia che dopo la somministrazione del plasma iperimmune ha abbandonato il supporto con l'ossigeno dall'esterno. Quindi è suggestivo che il plasma iperimmune abbia avuto una sua efficacia. Sopra luogo del Presidente facente funzione della Regione Nino Spirli a Villa Bianca, struttura sanitaria di Catanzaro che potrebbe diventare una struttura covid. Ecco l'ispezione del Presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirli a Villa Bianca, accompagnato dal Capogabinetto Luciano Vigne e dal Dirigente della Protezione Civile Regionale Fortunato Varone, ha visitato i locali della struttura sanitaria che si trova a Catanzaro, che già la scorsa primavera, nella prima ondata della pandemia, era stata indicata come idonea ad ospitare un centro covid, ma rimase solo un'ipotesi. Ma questa adesso può essere una struttura che si presta per la gestione dell'emergenza? Se questa domanda l'avesse fatta qualche mese fa al commissario che se ne doveva occupare, sarebbe stato un no. Visto che si fa oggi e si fa la Regione Calabria, questa Regione Calabria può essere un sì. Ma come sono i reparti? Sono ben tenuti, ma hanno necessità di essere ritrasformati, di essere risistemati proprio per chi possa ospitare i pazienti. Ho trovato tantissima disponibilità, un garbo da parte di tutti, una grande disponibilità anche a risolvere i problemi che sono legati all'emergenza covid. Ripeto, non capisco perché qualcuno, chi avrebbe dovuto, non ci ha pensato prima. Ci spostiamo adesso a Castrovillari, dove è stata montata la tenda per effettuare lo screening della popolazione. La prima giornata di effettuazione dei tamponi antigenici presso la tenda restita nell'area mercatale di Castrovillari ha portato su circa 40 tamponi, due positività, di cui una soltanto nuova immediatamente posta in quarantena in attesa del tampone molecolare ed una di conferma dei positivi accertati la scorsa settimana. Per noi è fondamentale questa attività, è fondamentale per capire qual è la realtà all'interno della nostra comunità perché solo in questo modo potremo prendere le giuste misure. Noi abbiamo attività economiche che aspettano di riaprire, scuole che giustamente vogliono lavorare in sicurezza. Solo mettendo in sicurezza attraverso appunto provvedimenti di quarantena potremmo garantire una maggiore libertà di circolazione e di riapertura di tutte queste attività scolastiche e economiche che dicevo in precedenza. Il servizio per l'effettuazione dei tamponi rapidi antigenici verrà effettuato gratuitamente tutti i giorni, escluso la domenica. Che è possibile grazie appunto a questa collaborazione con la Croce Rossa ma grazie anche al SIULP, al Gas Pollino, ai tanti cittadini che stanno dando dei contributi che sta raccogliendo il comitato della New Commercial Generation e in modo particolare grazie anche all'attivazione della protezione civile, delle volontà della protezione civile e alla collaborazione dei medici di base che è fondamentale. In caso di positività la Croce Rossa avvertirà immediatamente dell'esito il Comune e il Dipartimento Territoriale di Prevenzione della Salute. Quest'ultimo dovrà sottoporre la persona risultata positiva al tampone molecolare. Ma qual è l'attendibilità di questi tamponi? Hanno una buona attendibilità soprattutto sui risultati negativi se non si viene da situazioni in cui l'indice di infezione è molto alto ma nel caso del nostro paese non è questo lo scenario. Quindi il negativo si può con buona pace considerare negativo al 93-95%, il positivo va comunque verificato al tampone molecolare. Però è un primo screening importante perché chi ha avuto contatti piuttosto che ha piccoli sintomi può cominciare ad avere un'idea e un risultato. La pagina del maltempo dopo i nubi fragili che hanno duramente colpito il Crotonese la regione chiederà allo stato di emergenza. Intanto rimane difficile e critica la situazione proprio nelle zone del Crotonese. A Melisse è crollato un ponte e fortunatamente non ci sono feriti. Il ponte non c'è più è crollato sotto le piogge insistenti delle ultime ore a Melisse nel Crotonese. Non ci sono feriti e il sinnaco Raffaele Falbo anche dai social ha invitato i cittadini a restare a casa. Il territorio sta vivendo ore drammatiche. Salvataggio in diretto con l'elicottero ragazzi. Queste sono le immagini del salvataggio di una persona a bordo di un'auto nel pomeriggio di ieri incontra da Margherita Crotone da parte della Guardia di Finanza l'intervento con l'elicottero. La città si è svegliata stamattina ancora con la pioggia. La situazione migliora lentamente. Non ci sono state nelle prime ore di questa domenica le bombe d'acqua di ieri, ma le criticità restano. Il traffico è interrotto sulla statale 106 Ionica all'altezza del ponte sul fiume Neto. La decisione è assunta perché il ponte non dà garanzie di stabilità. Disaggi per la circolazione viaria, le auto deviate sulle strade interne, le forze dell'ordine impegnate insieme alla protezione civile nel gestire un'altra giornata difficile. Va ricordato che un centinaio di persone sono state sfollate e ospitate in strutture turistiche. Si registrano danni alla linea ferroviaria Ionica e alle condutture dell'acqua. Sotto osservazione il fiume Esaro, costantemente monitorato, e il corso d'acqua che attraversa i quartieri popolari della città. Intanto oggi una colonna mobile della protezione civile della Campania è partita in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione. Si tratta di 10 squadre di volontari dotate di moduli idrogeologici completi di idrovore. Anche la regione Puglia ha inviato nelle zone del Crotonese colpite dalle alluvioni cinque squadre di volontari attrezzate con idrovore in coordinamento con la protezione civile nazionale. Potenziare i servizi sanitari nella Presila Cosentina è quanto chiesto dal Comitato Salute Pubblica in un sit-in questa mattina a Casali del Manco. In piazza sfidando il freddo pungente di inizio inverno dinanzi al poliambulatorio di Casole Bruzio siamo nel comune di Casali del Manco per chiedere il rafforzamento dei servizi sanitari. Il sit-in organizzato dal Comitato per la Salute Pubblica in Presila ha costituito da forze politiche, movimenti, associazioni del territorio una cinquantina di persone mobilitate nel rispetto delle normative anti-covid rappresentanti di un'area vasta il cui intento è lanciare un appello alle istituzioni sanitarie e alla politica regionale. Chiediamo intanto che venga ripristinato e potenziato il poliambulatorio della nostra comunità una struttura da tempo finita e mai completata in termini di servizi sanitari chiediamo l'attivazione di un'USCA qui nel nostro territorio in maniera tale da poter favorire le popolazioni a non intasare il nosocomio cittadino di Cosenza chiediamo il potenziamento della medicina del territorio attraverso tutti quei servizi che qui potrebbero essere attivati guardia mediche, assistenze domiciliari per favorire la deospitalizzazione di alcune strutture e poi chiediamo che ci sia una politica anche da parte delle amministrazioni locali e della regione di potenziamento di tutti quei servizi sociali che consentono alla popolazione di avere il diritto alla salute. La Procura di Reggio continua ad indagare su presunte irregolarità nelle ultime amministrative in riva allo stretto. Che l'inchiesta sia solida trova dimostrazione giorno dopo giorno. La Procura di Reggio Calabria continua le verifiche sul voto delle recenti comunali che ha visto la conferma al sindaco di Giuseppe Falcomatà. Il sospetto, anzi sembra essere più di un sospetto che il voto sia stato in qualche modo falsato e concreto. La riservatezza è massima. Magistrati ed investigatori dell'APG sono solo concentrati sulla verifica e sull'acquisizione di notizie e di novità. E proprio queste ultime sembrano non mancare. Ad esempio risulta che anziani quali avevano deciso di non recarsi al seggio forse per sfiducia, forse per cautela in considerazione dell'emergenza sanitaria in realtà sono andati a votare. Particolare da non trascurare, pare che tutto ciò lo abbiano fatto senza che gli stessi interessati fossero al corrente. Si ironizza certo, ma la realtà se confermata fa raddrizzare i capelli. Ma c'è dell'altro ed è anche più clamoroso. A votare risulta che siano andate persone recentemente defunte. Anche qui si rischierebbe la battuta, ma la si evita ovviamente per motivi di opportunità. Un commento in ogni caso arriva spontaneo. Pazzesco. Naturalmente se tutto sarà confermato, c'è da chiedersi queste preferenze che tali non volevano essere, a chi sono andate? Quattro nuovi magistrati in forza alla Procura di Catanzaro. Vediamo la cerimonia di insediamento. Sono stati accolti da un lungo applauso gli undici nuovi giudici e quattro sostituti procuratori destinati alle loro funzioni a Catanzaro al termine di una cerimonia che si è svolta davanti al Presidente del Tribunale Rodolfo Palermo e al Procuratore Nicola Gratteri. C'è una grande attenzione ormai sul distretto di Catanzaro e questo ci conforta così il Procuratore Gratteri parlando dei nuovi magistrati perché ci dà la possibilità di fare un piano di rientro sui fascicoli arretrati ma anche di pensare a progetti nuovi. Si tratta di giudici destinati alla prima sezione civile, alla sezione di battimento e sezione misure di prevenzione e riesame. I nuovi sostituti procuratori sono Francesco Bordonari, Francesca Del Cogliano, Silvia Peru e Saverio Sapia. Forze nuove che daranno una mano in un momento delicato caratterizzato dalla pandemia. Certo ci troviamo in un momento particolare, questo momento di contagio da Covid rallenta un po' le attività, però le funzioni giudiziari verranno svolte tranquillamente dai colleghi in sicurezza e noi con l'aiuto, con l'arrivo dei nuovi colleghi contiamo di fare sempre meglio, di svolgere sempre meglio l'attività giudiziaria e di contenere i tempi di trattazione dei giudizi, anzi di abbattere le pendenze come è stato fatto d'altro canto che in avora. La città di Cosenza ha ricevuto la menzione speciale all'Urban Award 2020 patrocinato dal Lanci. Il Comune di Cosenza, grazie alle buone pratiche in materia di mobilità sostenibile, ha ricevuto all'Urban Award 2020 la menzione speciale intesa San Paolo. Dopo un'attenta analisi delle candidature, la giuria ha premiato il Comune di Cosenza per essere riuscito, questa la motivazione, a riqualificare i quartieri della città trasformandoli in polmoni verdi a misura di bicicletta. Le immagini visionate dalla giuria hanno mostrato, si legge ancora nella motivazione, una città che può competere quanto a mobilità sostenibile e qualità della vita con i comuni più virtuosi del Nord Italia. La cerimonia di premiazione si è svolta in modalità digitale a Roma durante l'Assemblea Generale di Anci. Seguirà appena possibile, non appena le misure di contrasto al Covid-19 saranno meno stringenti, la consegna ufficiale del premio. La menzione speciale allo Urban Award 2020 è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Mario Chiuto. A distanza di pochi giorni dal riconoscimento di Legambiente, che ha inserito Cosenza nella top 10 delle città più vivibili d'Italia, arriva un'ulteriore attestazione con un premio prestigioso nel settore della mobilità sostenibile. Il giusto riconoscimento alle buone pratiche portate avanti dall'amministrazione comunale, in particolare le piste ciclabili e la ciclopolitana, che hanno reso Cosenza molto più virtuosa e più avanti di altre realtà del centro-sud e molto vicina a quanto è stato fatto nelle grandi città del Nord. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, il vortice di bassa pressione autore della cruenta fase di maltempo, che ha colpito in modo particolare i versanti ionici crotonesi, causando diversi allagamenti segnalati nella città di Crotone. Continuerà a stazionare a largo della Sicilia e delle coste tunisine e solo nelle prossime ore inizierà una lenta evoluzione verso il deserto del Sahara. Di conseguenza continuerà a causare una severa fase di maltempo su tutti i versanti ionici calabresi, dove la confluenza di venti da Grecale a quelli di Scirocco accentueranno gli effetti delle piogge, che assumeranno carattere di rovescio intenso o addirittura di nubifragio, accompagnato anche da forti temporali. Domani cielo generalmente nuvoloso sui versanti ionici reggini, con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale. Altrove cielo poco nuvoloso, temperature in ulteriore leggero aumento. Passiamo a mari e venti. Domani poco mosso, mosso il Martirreno, con venti dei quadranti orientali, molto mosso il Mar Ionio, con moto ondoso in diminuzione, a partire dai bacini settentrionali, con venti moderati da Scirocco. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.